Che colori eh! Stamattina la nebbia nella valle e il sole in alto oggi 31 ottobre 2020 vediamo che esce fuori eh! Se la rigirava un animale però tu l'hai trovato qua guarda bello! Questa è una cinghiale, è una bella, che piccia, è una cinghiale dai la lasciai tu eh, la lascia fai, almeno si inizia dai ecco quello qui eh, oh qui c'è un bosco, si, oh la roba, doppio straccio, oh la roba la funghera e l'occhio di stomaco, l'occhio, questo ti vede, è tutto l'acqua guarda il fungo, oh mamma mia, aspetta, guarda il fungo mamma mia, guarda il fungo mamma mia, i funghi di finistagione, questi pochi ma si scrocchi io, oh mamma mia, oh mamma mia che bellezza, fermati lì il bozzo voglio anche io l'altro mamma mia, questo è un mio fungo davvero è più bello però, è bello anche quello eh, si vede, ha un bel gambo ah, un altro piccino lì, guarda ma la misura anche quello, questo è bello oh, questo scrocchia, madonna c'è una radice ecco, bello, che patacone, le fungare di tombe ragazzi la vedete, entri tutte e due in mano mamma mia, spettacolo l'alberino o non l'aveva buttato? l'avevo detto, avevo visto la manita muscare infatti, c'è aspetta eh qui scatto una fotina al bimbo uno degli ultimi tomboletti di stagione la città le pesce la pesca la pesca il pesca la pesca la pesca la pesca la pesca la pesca lì vicino comunque siamo affini via si fa quasi festa si va alla trifola ora ora va a prendere i willy e va a fare una bella giratina alla trifola caro tommy sai e li mando in culo in culo vai a fare in culo ciao ciao allora tommy l'ha beccato bello perché appena mandava a fare in culo funghi e te l'ha beccato subito così bisogna fare una mandaglia in culo ah vai vai beccalo vai fammi vedere qui sto spettato questo è bello dai sono gli ultimi guarda lì fu la ultima bello sodo bello sodo si mi sa che piange l'ultimo si vabbè dai si fa festa un po' di tommy che l'ha beccato quasi dalla macchina perché no guarda è fungo no io guarda oh mamma è bello 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 è il più bello di oggi se tu dicesi si era per andare via domani se mi andava a fare tasca funghi io guardo non ho parola questo è da foto davvero stupendo mamma mia vieni guarda no guarda è fungo di finestra giocca fungo di viotto bello 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 è pieno di nebulari si l'hanno buttato giù come si vede si prova un lo so io vedo un fungo la vedi diritto la qui cosa mi pare anche a me che si è un fungo un lo so ora si prova a attraversare il fossetto si va a vedere mi faria di vedercelo su quella costa vediamo dai un lo so se un è però siamo troppo lontani dai l'è stagionato la vedevo da lontano e l'era vecchio ti lascia quelle spore se non è buona come l'è eh somma forse sano sembrerebbe sano vedete qualche giorno tu lo friggi vabbè visto da 30 metri si è un branco di aprioli vabbè ti lo so sei contento? sei contento? sei contento? ecco contento? sei contento? ora tu fai ci fai ci fai per concludere questo 31 ottobre ecco il willetto bravo willy ho fatto un po di posto oggi 31 ottobre 2020 si scava ragazzi si scava bravo willy ecco il bitcoin dai come iscrivetevi dai 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 tu dai il biscottino bravo willy bravo willy è Wellice Grazie a tutti. Venti C'è l'invasione di i famiglioni, vi ho detto Ma noi ora si smette che ci sta facendo buio C'è l'invasione di